ciao a tutte allora oggi video di cosa acquistato da Yves Rocher e ho anche lo scontrino ovviamente così vi mostro tutto allora intanto gli omaggi partiamo dagli omaggi tagliamo dalla borsa primo maggio è questa pochette davvero grande oltretutto è bella grossa direi che questa oltre fatto che è carina ed estiva è comunque un prodotto che io uso e reciclo sempre poi vediamo gli altri omaggi togliamoli dalla borsa due fondotinta questi tinte jeunesse ok lo proveremo il profumo questo è fantastico alteverde è stupenda e poi il siero giorno della serum vegetale due di questi ma veniamo a che cosa ho preso che salite curiose le novità del momento allora la novità che appena uscita questa che è il lombretto waterproof e questo è il colore che io e il top che questo che oltretutto ho provato stamattina ed è questo che è intatto da stamattina non so se c'è una sveglia quindi giorno comunque sono le sei e mezza di pomeriggio e oltretutto oggi sono anche stata in giro quindi intatto perfetto allora prezzo pieno eccolo qua 12 e 95 ma io avevo sconto del 50 quindi l'ho pagato 6 euro e 48 quindi bello bellissimo altro prodotto tra le novità e questo lo volevo provare è questo rossetto una tinta labbra alla fine con l'applicatore fatto così questo è il colore 102 ed è il rossetto che sto indossando è un rosa opaco e si applica bene è cremoso una volta che si è fissato resta fermo ora io lo ho applicato però stamattina sempre perché ho testato i prodotti me lo sono messa sono andata a fare delle commissioni sono tornata ho mangiato e c'era ancora il contorno quindi questo costava 17 95 ma quello sconto del 50 l'ho pagato 8 98 e devo dire che oltretutto non secca le labbra resta sempre cremosino prima recensione per me super positiva e basta perché lo shopping era tutto questo avevo lo sconto del 50 quindi in questo caso ho voluto provare alcuni prodottini fatemi sapere se vi è piaciuto questo video e come se vi ho tenuto compagnia se volete provare qualcuno questi prodotti se qualcuno vi interessa cosa avete acquistato voi invece con queste promozioni ed se vi è piaciuto il video mettete un like iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisato con una comoda notifica gratuita ogni volta che carico un nuovo video alla prossima ciao